...sicuro di niente, basta una telefonata. Ja? Non sai che basterebbe fare una telefonata ad un quasi assi ufficio di polizia? E tu saresti nei guai. O una signora in rosso con il passo da Pantera. Da un momento all'altro tutto può cambiare. L'uomo che ha aiutato a sopravvivere non esiste più. Ma i sentimenti veri durano per sempre. Edera, domani alle 20.40, canale 5. State attenti, le bolle non sono tutte uguali. Ferrarelle, effervescenti naturali, si nasce. Problema di pulci? Ora c'è antipulci Tiguvon. Si applica in un momento fra le scapole sulla cote e le pulci sono servite. Antipulci Tiguvon è un prodotto buyer, come lo spray e il collare. Sono antiparassitari, uso il proprio dei prodotti per risultare un cibo, manipolare con prudenza. Ci vogliono secoli di storia per fare un grande paese. Proprio come per fare una grande birra. Stella Artois, da sei secoli, segue il ritmo naturale del tempo. Scegliendo l'orzo e il lupolo migliori e l'acqua più pura. Facendo rivivere la stessa tradizione che ha reso l'arte della birra un'arte del vivere. Stella Artois, nel paese della birra, è il nome della birra. Timodore, polvere deodorante. Dalla linea igiene piede, dottor Cicarelli. Attento! Finirai per farti male. E qui ci vorrebbe un cerotto. Non avrò la sempre. Lavare i denti non basta! Anche i piedi vanno curati. Aia! Per essere pronti a tutto, Farmamed. Una linea completa di prodotti per la prevenzione, la diagnosi, il pronto soccorso. Per questo in ogni famiglia ci vuole Farmamed. Farmamed. La prevenzione in azione. Questo è un dreno da non perdere. Dieci mila lire il regalo nel reparto alimentare. Se spendi cinquanta mila lire nel reparto alimentare. Mendo, casa lì, cosa fai da te? Stam. Il valore dei soldi. Effettivamente. Per tutti i sottomarini. Tutti sotto poverta. Immersione. Sotto olio e sotto aceto. Sotto tutta. Ecco sott'occhio la barriera cipollina. E ancora sotto un branco di funghetti. Tutto è sotto controllo. Non mi resta che sottrarre. Sotto con la fioggina. Zac. Via un sottaceto. Zac. E un sottolio. Ma ho una mira da non sottovalutare. Il sottoscritto non corre il rischio di finire sottoscorta. Polly. C'è più gusto. Attendiamo il prossimo concorrente. Ok, ha scelto il signor Rocco Musolino. Signor Rocco. Accompagniamo. Oh, attenzione Rocco, eh. Hai avuto un cedimento lì o no? Una genuflessione. Ciao Rocco, buonasera. Ben arrivato. Attenzione. Apri di sesamo. Radio registratore stereo con lettore compadisca, radio ricevitore MFM stereo, lettore compadisca, triplo raggio laser, microfono incorporato, potenza 2 per 30 watt. Accompagniamo. 3,50. 3,50. Lorena. 173. 140. Alice. 2,60. 300.000. Alice guarda i gatti. Ecco l'alice. Finalmente, dice Alice. Allora. Io mi chiamo Alice, ho 20 anni, vengo dalla provincia di Milano, però studio a Pavia Economia. Saluto tutti i miei amici, ciao. Poi, nel weekend lavoro, fine settimana, venerdì e sabato, nei supermercati, faccio la promotrice, hostess, cerco di vendere i prodotti che ogni volta mi danno e poi ho la passione per le lingue e mi piace viaggiare. Beh, basta, mica tanto basta, brava. E tanto, eh Alice, sei in gamba, bravissima, studia, lavora, sei da da fare, che bello, sono convinta che la mamma sarà soddisfatta di te. Ciao mamma, sì, saluto tutti. Immagino proprio, ciao mamma, brava mamma, hai allevato una brava figliola, complimenti. Andiamo a giocare al Super Bowl. I premi per il gioco del Super Bowl sono set da viaggio Jaguar in un tessuto impermeabile, le valigie hanno due pratiche ruote per trasportarle con facilità. Lampada da tavolo in vero cuoio color rosso con particolari noctone, bagno rozzecchino 24 carati, lampada alogena da 100 watt, disco e cristallo temperato, prodotte e distribuita da proprie illuminazioni di Pomezzi a Roma. In 14 volumi, tante ricette e consigli utili per inventare ogni giorno un nuovo menù. Hai visto che bei premi, eh? Guarda, le valigie sono bellissime, tutto è bello, eh? Mi servono perché mi piace viaggiare. Eh, le valigie servono perché lei viaggia tanto. Comunque ti presento il primo oggettino, via. Porta cravatta e Jaguar in materiale plastificato con rifinitura contrasto. 25.000, 29.000. Attenzione, qual è il prezzo giusto? 29.000. 29.000. Speriamo che sia... Peccato perché per ora sfumano, lo sai, le borse, valigie, ma non è detto che arriverà poi il Super Bowl. Va bene. Secondo oggetto. 3 t-shirt in cotone con scritta celebre del Sirano, confezionate in cornice a forma di cuore in cartone rosso, prodotte e distribuite da Malco Milano. 73.000, 76.000, qual è il prezzo giusto? 73.000. 73.000. Oh, va bene. Ok, così ti puoi allenare. Ma speriamo che tu possa fare il centro. Mettiti lì, falla scorrere bene sul tappeto, con un po' di forza, non eccessiva, ma... Mamma! Hai visto che è entrato? È entrato nel centro, poi è uscito, un po' sfortunata, che peccato. 10.000, 100.000, va bene, andiamo avanti col terzo carrello. Blitz, il Fongi, mette che potenza 60, 1200 Watt, due velocità, termostato di sicurezza. 36.000, 39.000, qual è il prezzo giusto? 36.000. 36.000. 36.000. Brava per tentare di portare a casa l'enciclopedia. Allora, come prima, ma sei stata brava, non ti posso dire nulla, secondo me lo dovresti ripetere, come prima. Più o meno... Ma perché? Ma chi c'ha la calamita? Entra e esce. Eh, troppo po'. Eh, beh, ma, insomma, sono tiri stupendi, eh. Eh, da manuale. Oh, vabbè, non vince nulla, altri 100.000, va bene. Questo è importante, non dico nulla, è quello del Super Bowl. Ti fa vincere tutti e tre i premi. Via. Dizionario della canzone italiana Armando Curcio, editore. Cinque compaddisca contenenti canzoni italiane degli anni 60, 70, 80. Ogni compaddisca accompagnato da un fascicolo del dizionario della canzone italiana. 68.000, 72.000, qual è il prezzo giusto? 72.000. Speriamo veramente che sia 72.000 e che tu possa fare il centro. Alice, del Paese delle Meraviglie. Come prima, ma forse un po' meno forte. Vedi, questa è dalla paura e questo è troppo piano, eccolo lì. Allora, vinci in totale 500.000 lire. Vabbè, meglio di niente, eh? Sono contenta. Grazie, ci vediamo alla ruota e io chiamo il prossimo concorrente. È il momento ok per il signor Antonello Zappa. Ciao, Iva. Antonello, buonasera, ben arrivato. Attenzione, guardiamo bene l'oggetto. Apriti dunque, Sesona. Sei cuori in plastica compiabile fluorescente, diametro centimetri 70, con stampa a colori, scritta a dondolo d'amore e il mio amore, con doppio fondo da riempire con acqua per ottenere l'effetto sempre in piedi. Prodotti distribuiti da Malcom Milano. Antonello. 150. Lorena. 160. 150. 155. Va bene. E il prezzo giusto è 164.000 e vince Lorena. Da pochi aspetti Lorena, ben arrivata. Ciao. Sono molto contenta di conoscerci. Grazie Lorena, anch'io sono contenta, veramente, sei simpatica. Da dove vieni? Allora, vengo da Savona, ho 34 anni, sono signorina Ina, lavoro da 15 anni nelle ferrovie dello Stato e ho cambiato 15 volte lavoro, perché adesso sono in ufficio e prima lavoravo in mezzo ai binari, facevo lavoro da uomo. incredibile, adesso sarai soddisfatta allora, cioè lavoravi in mezzo ai binari, controllavi se le... diciamo che attaccavo i treni, facevo il manovratore e il deviatore anche, e portavo anche pesi, quindi appena mi parlavano di femminismo ci saltavo addosso. E' in gamba, eh? Allora, signorina comunque Ina Ina, perché dice per ora voglio rimanere Ina Ina, eh? Eh, non ho ancora incontratto il principe azzurro. Eh, ma arriverà. Va bene, andiamo a giocare all'assegno in bianco. Il premio per il gioco dell'assegno in bianco è una vacanza. Due settimane per quattro persone nel villaggio Agrumeto, un centro autonomo di prima categoria direttamente sul mare, tra tropea e capo vaticano, munito di campi da tennis, calcetto, discoteca. Allora, quattro persone mi parlo di aver capito, quattro persone... Due settimane. Due settimane a tropea? Sì. Beh, guarda che vacanza, quattro persone. Vedi tu, eh? Vedi tu. Adesso io ti posso dire soltanto che questa vacanza, soggiorno, viaggio, tutto compreso, non può essere inferiore ai 2 milioni e 900 mila, non può superare i 3 milioni e 100. Allora, a prezzo giusto si fa presto a intuire, a capire quale sia, insomma, eh? Devi però scrivermi qua gli extra quanto spenderete quattro persone. 8 e 20, guarda, oh, questo è un po' insolito. Metti un altro zero là su, eh, manca uno, va bene lo stesso. Queste 20 mila, eh, così, sono un po' insolite, dicevo, perché di solito si va, insomma, sulle... va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, grazie. Allora, il presente assegno di 820 mila lire, vediamo il valore del premio, 2 milioni, 2 milioni e no, eh? 2 milioni e no, scusa, eh? 2 milioni, ah, è 800, eh, non è un 9 quello. No, perché dicevo, allora ha vinto, perché io ho detto 2 milioni e 9, invece vedi, 2 milioni e 820. Per 80 mila lire, qualcuna sciocchia, meno, eh? Importante partecipare. Proprio è andata vicinissimo, peccato davvero. Doveva spendere un po' di più, eh, falcosettina di più. Eh, santi Dio, eri lì ormai c'eri, vabbè, niente, ci vediamo tra poco, mi dispiace. Con i risotti Knorr, sei bravissima a fare il risotto. Risotti Knorr, presentano... Camille, non voglio dire, ti desidero troppo. Oh no, dai, Leo, abbiamo aspettato tutti questi anni. A te sembra normale che due persone siano insieme i dieci anni senza fare l'amore? Ma è con Camille? Hai paura di sposarti. Leo, è diverso dagli altri. Perché? Con lui ti sposeresti? Da un'idea di Ennio Deconcini, senza fine. Il nuovo teleromanzo italiano. Da stasera alle 20.40, su Canale 5. Scopri natura, scopri l'avventura. Scopri l'avventura con i nuovi ed esclusivi regali. La sacca zaino, il doppio marsupio in cotone, l'orologio con termometro e il computer da bici multifunzione. Puoi averli con le merende del mulino bianco barilla. TV Color 100 Hz, Philips Match Line. Mamma, tu con l'apparecchio ai denti? Ma è una cosa da bambini. L'ortodonzia di oggi è anche per gli adulti, tesoro. Sì, l'ho letto su Starbene. Ah, e a proposito, ho letto anche che saltare i pasti fa ingrassare. Già, ma anche i tuoi stuzzichini. E per la cellulite c'è niente di nuovo? C'è un intero servizio su Starbene. Diete, ginnastica, creme, massaggi, piccola chirurgia. E presti Starbene, mamma. Per il benessere della tua famiglia, scegli Starbene. In giugno in offerta solo i 3500 lire. E in regalo una confezione speciale di quattro bagnoschiuma alle erbe. Non perderlo. È gustosa e leggera. Cos'è? Simmental. Solo il 2% di grassi. Quante volte si lava un italiano durante la giornata? L'acqua è più dolce. Con Fresh and Clean. Igiene di bimbo. Con Fresh and Clean. Freschezza che va. Con Fresh and Clean. Rinfreschi il sorriso. Con Fresh and Clean. Ti lavi le mani. Cha, cha, cha. Tu lavi gli occhiali. Con Fresh and Clean. Visto? Quante volte ti lavi e ti rinfreschi con... Con Fresh and Clean. Fresh and Clean. Il piacere della freschezza. Fresh and Clean. Piccoli sporchi. Grande gomma. Sul tuo muro segno e strisce. In un attimo pulisce. Blob. Uno schizzo di vernice. Via da questa superficie. Bravo. Incrostato il tuo fornello. Senza sporco. Ma che bello. Gomma tutto. Via lo sporco dappertutto. Dove lo trovo? Casalinghi, supermercati, grandi magazzini, elettrodomestici, tabaccherie, ferramenta, colorifici, cartonerie. Questo è un treo da non perdere. 10.000 lire in regalo nel reparto alimentare. Se spendi 50.000 lire nel reparto alimentare, ando a casa lì. Quanto fai da te? Stab. Il valore dei soldi. Effettivamente. Allora, signor Simpson, ci dica. Com'è cominciato tutto questo? Doveva essere il giorno più felice della sua vita. Sì, oggi mia figlia compie 15 anni. Ma questo non se l'aspettava. Salve. Non è ancora pronta? Pronta per cosa? Insomma, nessun padre se l'aspetta. I maschi. Ecco cosa prende a queste ragazze, signor Simpson. Guarda che non puoi fermare il corso della vita. Ah no? Beh, almeno posso rallentarmi. Altro che rallentare. Signor Simpson, qui bisogna correre. Per me è la prima volta. E per la prima volta in televisione, giù le mani da mia figlia. Domani, alle 20.30, su Rete4. Attendiamo il prossimo concorrente. Il prezzo giusto è ok per la signora Lorenza Dalbon. Arriva Lorenza, accompagniamola bene così. Ora si avvicina, scende le scale. Precipitevolissime volmente. Arriva in postazione numero uno. Ciao, ben arrivata. Giochiamo. Apri di sezamo. Set da viaggio Jaguar, composto da quattro valigie in nylon decorato. Lorenza, il prezzo giusto qual è? Due e novanta. Trecento. Tre e venti. Due e settanta. Attenzione, allora, al di sotto del duecento, settantamila. Duecento e venti. Duecentocinquantacinque. Due e quarantacinque. Due e sessanta. Duecentocinquanta. Non l'ha detto nessuno? Vabbè, però, si avvicina Rocco. Vieni Rocco, ciao. Ben arrivato. Allora, un attimo. Se permetti, salutiamo i nostri concorrenti che non hanno potuto giocare. Lorenza, ciao. Ciao, saluto. Posso salutare. Saluto mio figlio, mio marito e i miei colleghi di lavoro. Ciao. Va bene. Flora. Posso salutare i miei paesani, Damiano. Come no? Allora, tutte le mie amiche di Masi in provincia di Padova. La compagnia delle barzellette pulite. E poi... E poi... Non abbiamo tempo, no. No, perché è una barzelletta pulita, guarda, una dice... È una signora Norma che ha 80 anni. Sì, è tutto il Rocco. È tutto il paese. Va bene. Ciao. Antonello, ciao. Saluto mio figlio. E tutte le barzellette sporche, no. No, 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 nel senso, va bene. Ciao Antonello. Rocco invece viene da... Vengo da Reggio Calabria, ho 23 anni e faccio il commerciante all'ingrosso prodotti ortofrutticoli. Il mio hobby è l'automobilismo anche perché faccio gare a livello regionale. Ah, complimenti. Grazie. Il campionato sociale l'ho vinto quest'anno, è l'anno 91. Hai vinto il campionato italiano? No, sociale. Ah, sociale. Per Reggio Calabria. E vai forte allora. Speriamo di sì, sempre così. Il tuo sogno sarebbe quello chiaro della Formula 3, Formula 1. E' un po' difficile perché è un po' impegnativo. Soprattutto la Formula 1, no, è quasi un sogno irrealizzabile, eh? Vabbè, insomma, comunque la Formula 3 è già importantissima. Ah, sì, abbastanza, eh. Come no. Andiamo a giocare al gioco dell'otto. Vieni. Il premio per il gioco dell'otto è una batteria in 34 pezzi dietetica, servizio posate da 144 pezzi in oro, con set pirofile posate. Prodotti e distribuiti da Jorinox, Lumezzane, Brescia. Molto bene, allora diamo a Rocco le otto fish e sapete che a Rocco gli deve rimanere almeno una fish per poter vincere. La prima cifra del prezzo giusto, quale sarà? Due. Vediamo se costa due milioni, bravo, in effetti costa due milioni. E la seconda? Cinque. Vediamo il cinque, tre. Eh, beh, beh, bene, me ne dai solo due, scusa, eh. Per ora va molto bene. Allora, due milioni, trecento. Cinque. Cinque? Sette. Se la cava, se la cava bene, se la cava bene. L'ultima cifra, quante ne hai? Eh, eh. Sono tre. Quattro. Per cui puoi sbagliare di tre cifre. Cerca di, eh? Cinque. Ancora cinque. Cinque. Ah, perché? Che peccato, eh? Bastava dire sette. 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 Anche il sei, col sei ce la faceva, vero? Sì. Sì, sì, sì. Eh, no, potevi dire sei, dal sei in su. Avresti vinto. Che peccato. Vabbè, ti dir sei, sette, otto, nove. Eh, vabbè. Andiamo alla ruota della fortuna, mi dispiace. Andiamo. Allora, sei pronta a girare? Vai. Però, ottanta sì. Cento no, ma ottanta sì. Ti fermi? Eh, mi pare giusto. Prego, signorina. Via. Vediamo se riesce a pareggiare. No, 35. Un altro giro. Vai, guarda, per cinque punti. Ciao, ciao. Volevo salutare tutti i miei colleghi, grazie a tutti. Grazie a te, ciao, ciao. Vai, se vuoi salutare, fallo durante il giro della ruota. Vai. La mia fidanzata che è qui in studio. Cento, 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 cento. Allora, non bastano, ma hai un altro giro a disposizione. Vediamo. 70, infatti, sì. E lei ha 80, vediamo un po'. Non è facile, è pericoloso. Ma non è possibile. Allora, 70 più, se si fermasse lì, guarda. Ciao, mi dispiace, ciao. E certo che è felicissima. Complimenti, complimenti. Allora, abbiamo due signorine questa sera. Gloria dov'è? Si può vedere Gloria? Eccola lì. Allora, comoditi vicino a Gloria. E tra pochissimo vi chiamerò per il finale. Io vado a giocare con il nostro sponsor. Grazie. Il nostro sponsor, Simental. Beh, io sono una fedelissima di Simental. Perché? Perché è un prodotto eccezionale. Ottimo, gustosissimo, leggero, nutriente, leggerissimo, perché contiene soltanto il 2% di grassi. Bene, e allora, intanto, sono felice perché questo è il nostro secondo appuntamento con Simental. E vi ripeto ancora una volta che staremo assieme tutto il mese di giugno. E vi darò delle ricette, delle ricette straordinarie che si prepareranno in pochissimo tempo con questo ingrediente, con Simental. E vedrete che sarà facilissimo prepararle, risparmierete tanto tempo e farete un figurone. Questa sera hanno preparato, hanno preparato insalata al pesto. Eh sì, semplice, gustosissima, veramente, veramente gustosa. Allora, come ieri sera, vi ricordate la frase fatidica? Apriti Simental! Certamente, si apre Simental e si intravedono gli ingredienti. Sapete che vi darò, tra non molto, vi darò naturalmente gli ingredienti e la ricetta. Facciamo accomodare naturalmente i nostri due concorrenti di questa sera. E allora, accogliamoli con un bel applauso. Sabrina? Sabrina e? Andrea. Allora, Sabrina, sono due giovanissimi, non siete sposati, vero? No, fidanzata. Dica con lui fidanzata. No. No, vabbè, non c'era niente di male. Allora, Sabrina, stiamo parlando di Simental gustosissimo, come dicevo, leggera, per chi vuole rimanere leggero, ma senza naturalmente togliere nulla al gusto, perché contiene soltanto il 2% di grassi. Tu conosci questo? Beh, immagino di sì, no. Certamente. Come la mangi? Come la mangi? Con l'insalata. Con l'insalata. Ecco, io, va bene, con l'insalata. Ma io ti dimostro e vi dimostrerò, cari amiche, tutte le sere come potrete utilizzare questo ingrediente ormai indispensabile per preparare invece dei piatti diversi, gustosissimi. E tu? Sì, la conosco, la mia mamma mi prepara un'insalatina che io me la mangio al mare sotto l'ombrellone, così è un piatto veloce, soprattutto per l'estate. Ha ragione. Ma io dico che si può portare al mare magari anche una bella insalata, sai, tipo un picnic, un cestino, questa insalata al pesto. Adesso è semplicissima, vi leggo gli ingredienti. Vi prego, cari amici a casa e amici, perché anche gli uomini si dilettano in cucina, scrivete questi ingredienti. Allora, una confezione di simmental da 400 grammi, sono sempre ricette per quattro persone, eh? Quattro zucchine novelle, quattro patate medie, 200 grammi di fagiolini verdi, uno spicchio di aglio, due mazzetti di basilico, una cucchiata di pinoli, una cucchiata di grano, di grana, formaggio naturalmente grattugiato, olio, sale, pepe. Beh, insomma, il classico pesto anche, eh, chi lo sa fare. Dunque, fate lessare le verdure, tagliate le patate, le zucchine, i fagiolini, ad adini, tritate il basilico assieme all'aglio e ai pinoli, unite il formaggio grattugiato e l'olio, in modo da ottenere una salsetta fluida e regolate di sale e pepe. Condite con il pesto le verdure preparate e aggiungete simmental spezzettata. Allora, coraggio, accomodatevi. Veloci, mi raccomando, prendete gli ingredienti, mettetele nel cosco giusto. Eh? Coraggio, coraggio. Allora, insomma, io, se volete vi posso ripetere. Il pubblico suggerisce tanto. Io mi auguro, spero che anche a casa, e abbiate appreso appunti perché è un piatto gustosissimo, insalata al pesto con simmental. Come va? Eh? Insomma, qualcosa è stato posizionato. No, no, vai avanti, vai avanti. Tutto è finito? Ha finito tutto? Va bene, vieni. Allora, devo dire che tu, Andrea, sei stato velocissimo, non so se hai posizionato nel modo giusto, ma comunque, vediamo. Vi leggo, attenzione, vi leggo, dovete posizionare nel modo giusto, in questo modo, le patate, per prime, fagiolini, basilico, pinoli, olio, e vabbè, poi si inventa il che era, era, è scontato, no? Come se l'è cavata, Andrea? Tutto? Andrea? Sei sveglio, eh? Non sarai un bravo cuoco, ma sei sveglio. E lei? Anche lei tutto? Va bene, sono due ragazzi in gamba, sono bravissimi. Allora, visto che hanno posizionato più di tre, insomma, sono alla pari, sono stati veramente bravi, per tutte e due, allora, naturalmente, un rifornimento di Simmental, ecco, vedete, ci sono confezioni da 60 grammi fino a 400 grammi, e poi c'è il robot, eh? Robot da cucina, per tutte e due. Sono contenta. Bravi. Complimenti Sabrina, ciao, allora, mi raccomando, provala, eh, questa ricetta, e anche tu, magari te la fai da solo, così dice la mamma, riposati che ci penso da solo, va bene, ciao Andrea, buona estate, naturalmente, e buona estate anche a voi, perché fa caldo, comincia a fare caldo, beh, è giusto che sia così, e allora non perdete troppo tempo in cucina, preparate dei piatti sani, leggeri, nutrienti, e soprattutto leggeri, perché sapete che Simmental contiene soltanto il 2% di grado, e se mi ascolterete con un pochino di attenzione, io vi consiglio di prendere appunti e di preparare, sera per sera, le ricette che io vi detterò, va bene? Grazie, con i nostri sponsor ci troviamo qui domani sera.